Oltre 4.000 libri venduti lo scorso sabato ad Uno Nessuno e Centomila, la manifestazione ideata dall'assessore alla cultura di Castiglion Fiorentino per incentivare la lettura. Quattro le piazze castiglionesi che hanno ospitato la compraventita di diverse tipologie di volumi. Il ricavato dell'iniziativa andrà a sostenere l'organizzazione dell'evento, oltre che la biblioteca comunale che si trova al piazzale del Cassero. Uno Nessuno e Centomila è la manifestazione che ormai da tre anni si svolge a Castiglion Fiorentino e unisce l'amore per i libri alla necessità per molti di liberare le proprie librerie, le proprie cantine anche da libri vecchi e usati. Quindi noi per tutto l'anno facciamo questo virtuosismo di raccogliere libri da istituzioni pubbliche ma anche da privati. Quest'anno abbiamo raggiunto la quota di 10.000 e questi 10.000 libri sabato passato hanno tappezzato le piazze, hanno riempito le piazze del nostro paese, suddivisi per genere, e li abbiamo venduti tutti a un euro ciascuno. Abbiamo venduto più di 4.000 libri, è stato un successo perché il paese è stato davvero invaso di persone curiose e accanto alla vendita dei libri, alla quale hanno partecipato tutte le associazioni di volontariato castiglionese, abbiamo unito anche degli eventi culturali, quali presentazioni di libri, conferenze, dibattiti e abbiamo coinvolto anche le scuole. Quindi è stata una bella giornata che ha regalato ai cittadini di Castiglion Fiorentino una ventata di cultura.